questo è il doppio pettine o spazzola per i cani e gatti di pelo lungo ma anche il pello corto perché è un modello della spazzola due in uno arriva in questa scatola bella colorata come il solito rinforzamento di questo marchio la spazzola già l'ho presa e utilizzata come potete vedere questi sono in acciaio morbidi le spazzole tipo come se fossi anche per i capelli per il nostro cane per il pello sono buoni e poi abbiamo questa spazzola che invece lucida morbidi anche questi cosa è buona questa impugnatura che anticipo lo quindi si mantiene molto bene nella mano con il suo occhiello quando finiamo lo possiamo prendere la cosa importante così potete vedere questa spazzola il manico fa qui è fatto apposta che fa un piccolo movimento quindi il pettine segue bene il corpo del cane e noi non li facciamo del male come potete vedere ok quindi è molto comodo da questo lato proprio una bella idea una bella idea sotto è di buona qualità sotto vi metto come al solito per acquistare questa spazzola che è di ottima qualità buona acquisto